secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie mia califa delle tette giganti attento a non tirarti troppo il pisellino amico perché poi diventi cieco buongiorno matteozzo grazie mille degli undici andiamo che belli che sono i bambini tutti eccitati buoni ovviamente tra un'ora e venti quelli che si sentono di essere cattivi che sono stronzi possono tornare a fare i cattivi e si prendono i soliti insulti ovvio ovvio le madri le nonne la famiglia generalmente e tutti guardo trovato quasi trovato troppo presto bravo uccider ma lei capa ora sta con 1v1 sotto mayor 2 200 patatine ciao sotto mayor ci provo sotto mayor si un centri silenzio figa era scarica parco parco parca parca dio caro dio e la scarica dio va bene così va bene così va bene così era scarica era scarica buongiorno anes buongiorno grazie dei due ciao bello buongiorno buongiorno oggi c'è il restock degli hydration drink di level up i tre gusti con zero zucchero e zero caffeina già pronti per essere portati sempre nello zaino in macchina ad a tua madre porco diaz porco diaz che cosa ok momento non vedo niente non vedo niente non vedo niente non vedo niente è tutto nero non vedo niente non si può fare non ho niente non vedo nulla è tutto nero è tutto nero è tutto nero è tutto nero parca o 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 perla se pensate di essere amanti della figa ecco la mia perla di domenica fanculo alla qualità andiamo sulla quantità è molto più figo scoprirete delle grandi sorprese andiamo fidatevi fidatevi io sono studiato da dieci anni ragazzi sì fidati pensi di avere la figlia di e mi chio io e mi chio ora che ci provi a sparare penso che cascare un'orecchia almeno da 56 mili anni mi chio minchia il cazzo ma che io che si vuole fare così ma che in due mi sparassero vieni aca vieni aca vieni aca resta mi resta metti arrivano in due è meglio che scappi per favore mi fai acciarire mi fai acciarire DIO MADRE E' UNA PUNTANA DI PERDA PARCA I C***A AAAAAA AAAAAA peccato ma tu chi cazzo sei ma chi sei cosa sei un'altra pattumiera in giro con le gambe mamma mia ma chi sei ma chi ti si in culo ma chi cazzo ti vuole vedere andate a cagare Cosimo il duro si chiama titolo infilo io qualcosa di duro Cosimo se ti trovo cosa ne pensa della situazione geopolitica in Europa e prenderei tutti i politici dal primo all'ultimo gli aprirei la bocca e gli cagherei in gola questo penso ed è già un programma tutto un programma insomma mi ha grabato dai parco diiii ma perchè ma perchè ma troppo culo ci vuole no ma perchè perchè ma perchè perchè sono fuori ero primo ero primo ero primo ho visto ho visto nel salto mi ha grabato senza motivo mhm perchè quella puttana di tua madre del parco eh 20 kill tutte tonte tonte 20 kill allora signori quattro ahhh the bed martii ahhh la colga la colga la colga l'acqua dintara l'acqua dintara l'acqua dintara bbbbbb dintara dintara con la riazzatura regale 5 abbonamento grazie di cuoro a aua secondo un panico ma adesso bestemmia porco un gioco di merda del porco devi per venti da porco no troppi 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 a me non mi sono incazzato sinceramente non mi interessa arrabbiarmi cioè non adesso adesso quando arrivare lì vinciamo tutto e quindi siamo nel chill e quindi ficco dentro un'altra oretta di strat pomeridiana per ok indicativamente così poi è dobbiamo se possiamo se vuole io vado su full e facciamo fall io non capisco perché quel coglione di merda che c'è la merda nella testa e porco diaz di piscio in gola ha dovuto griffarsi il game per grabbarmi ma tua madre cosa cazzo faceva quando ti ha partorito minchia la madre di quello porco diaz si prendeva direttamente le bonghe e ce le infilava nel culo porco diaz e tirava con l'ano figa perché per partorire uno con della merda in testa quello deve essere succeduto roll di merda regista il capitolo cosa cazzo fa 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 4 9 arrivato proprio un... qua 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 la base West donato 100 non topatine non faccia le cose donna addirittura ha fatto un verso bruttissimo e fo si la skin dicono che era di colore senza capelli dalla regia cosa sta facendo l'ernesto che non parla la proviamo